Ogni venerdì su radiotour.fm il taccuino di Nicola Manfredelli, presidente del movimento Lucania Viva. Amici di Radio Turunca, lo saluto a tutti. Ci sono un paio di buone notizie che non voglio assolutamente sottovalutare perché da versanti diversi confermano le attesi delle grandi possibilità che esistono per questa nostra terra a condizione che si agisca con correttezza e competenze, non per affarismo e approssimazione pensando solo a come far soldi senza creare benessere e occupazione, che lo voglio ricordare è la condizione in cui versa l'intero Sud e in cui annaspa la nostra Lucania, che non si merita di essere definita terra di cacca come ha fatto qualche giorno fa l'addetto stampa della Total. Conosco Massimo D'Apoto, il dirigente che probabilmente ha detto quelle frasi senza alcuna particolare cattiveria ma ciò non giustifica e non sminuisce la portata dei danni provocata da quel manipolo di persone come lui che nel decennio che portava al nuovo secolo, agli anni 2000, scelse di abbracciare le ragioni della finanza e del profitto piuttosto che quelle della difesa delle popolazioni e del governo responsabile delle risorse territoriali. Fu forse quella la prima sperimentazione di ciò che successivamente è diventato l'esercito delle girls e dei boys renziani che avranno pure tanti pregi, ma quando si tratta di poltrone di finanziamenti anche quelli delle semplici e fiere manifestazioni agricole per non parlare dei grandi programmi europei solo per finta messi a bando, diventano qualcosa che il dizionario italiano non ha ancora stabilito come meglio etichettare. Un dato è certo però, e cioè che in questo modo rischiamo di rimanere inchiodati al palo in una situazione che nessuno può più pensare di sostenere così com'è, con l'occupazione che non cresce, con le risorse pubbliche che o vengono destinate ad accontentare gli appetiti clientelari oppure vengono utilizzate male, inducendo la Corte dei Conti a richiamare la Regione per buchi pari a una cifra pazzesca di circa 300 milioni di euro prodotti dai tanti enti e società che non hanno motivo di esistere senza far nulla di utile per il miglioramento delle condizioni economiche e sociali. E tutto questo non è accettabile perché ad incominciare dai fonti per l'agricoltura deve essere chiaro che i soldi non sono né dell'assessore né dei dirigenti burocrati super pagati ma i legittimi proprietari sono solo ed esclusivamente i coltivatori e gli operatori delle zone rurali. E la stessa cosa vale ovviamente anche per il turismo dove la bella notizia del New York Times che individua Matera come la terza destinazione italiana da non perdere deve dare una sveglia anche a quelli che non credevano a tali possibilità oppure all'eventualità che fosse possibile ottenere un risultato incredibile di cui parlerò più diffusamente nel prossimo taccuino che è quello della norma frutto della nostra iniziativa meridionalista che impone al governo distanziare su ogni intervento almeno il 34% delle risorse alle regioni del sud a conferma del fatto che i risultati importanti sono il frutto di chi ci crede e si impegna e non certo di chi si siede e si vende. Un caro saluto a tutti, scrivetemi in fochiocciola nicolamanfredelli.it Ogni venerdì su radiotour.fm alle 6.50 e in replica alle 18.50 il taccuino di Nicola Manfredelli, presidente del movimento Lucania Viva www.nicolamanfredelli.it www.nicolamanfredelli.it